Si torna in questo luogo, che è stato lo scorso anno, con una formazione diversa. Quest'anno vi presentiamo un programma che è stato eseguito al Castello Sforzesco a Milano per Expo 2015 e è stato ripreso e trasmesso da Rai International per Camera Comunista. È un piacere riuscire a portarlo qua, ringrazio la base, ringrazio tutte le persone che si sono adoperate per riuscire a fare questo. È bellissimo il quadro, stupendo, veramente, ed è un'occasione per noi, è un onore, riuscire a eseguire queste musiche di fronte a tanta bellezza. Grazie.